L'Arezzo calcio femminile batte nettamente l'orobica calcio Bergamo allo stadio comunale Città di Arezzo nella ventiduesima gara di campionato, consolidando così il primato in classifica. Una doppietta di Ceccarelli prima e la rete di Paganini poi portano alle ragazze amaranti tre punti fondamentali per la corsa alla Serie B. Una vittoria che permette all'Arezzo calcio femminile di affrontare la prossima trasferta contro il Pinerolo, diretta concorrente per la promozione con il vantaggio di 5 punti in classifica. Domenica prossima dunque tappa fondamentale per la rincorsa finale alla Serie B. Sapevamo di incontrare una squadra molto forte e lo ha dimostrato, però da quando abbiamo sbloccato con l'1-0 siamo riusciti a mantenere quel vantaggio e poi e dopo a fare quello che conosciamo, insomma, il 3-1. Ma come abbiamo sempre sostenuto il campionato è lungo, le partite sono tutte complesse, effettivamente le ultime due hanno preso una piega sbagliata, ma a punti diciamo che meritavamo qualcosa di più. Senta, una cosa importante, c'è il conflitto in Ucraina, si parla di sport e di inclusione, eccetera. L'arizzo calcio femminile è disponibile se nel caso ci fosse la possibilità? Sì, noi abbiamo dato disponibilità attraverso gli organi appunto competenti della disponibilità ad ospitare eventuali calciatrici e non solo. Quindi adesso vediamo quello che accadrà. Sappiamo le squadre che dobbiamo affrontare, sono tutte squadre che hanno degli organici importanti, delle ottime qualità, quindi ogni partita sarà di questo livello, di questo calibro, quindi bisogna allenarci bene e cercare di prepararsi per fare delle prestazioni di alto livello. Poi tra l'altro una partita che il mister ha preparato molto bene perché le hai attaccate anche mentre veniva costruita l'azione, hai messo delle tue giocatrici in posizioni in mezzo alle linee, insomma credo che sia stata una partita vinta sia dalle ragazze che dal mister. Sì, dai, io credo che alla fin in fine il merito, dico sempre che è loro, quindi sono state brave a fare quello che durante la settimana abbiamo preparato, quello che c'eravamo prefissi di fare cercando di tirarle fuori, dato che loro a volte cercano e affrontano uno contro uno e poi di creare le situazioni per ripartire.